Buongiorno e benvenuti a tutti quanti a questa zuppa di porro di sabato 17 febbraio. Per essere un sabato ci avrei tante cose da raccontare, ve le voglio raccontare perché ci sono 3-4 questioni sui quotidiani italiani che mi fanno davvero impazzire, diciamo così, dalla voglia di vedere. Uno dei motivi per i quali faccio questa zuppa di porro è perché si possono commentare le cose come quelle che sto per commentare. Oggi tutti quanti i giornali titolano su Gentiloni che ieri si è incontrato con la cancelliera Merkel e l'ha assicurato come fosse una Sibilla Cumana la quale però ci azzeccava anche se non veniva creduta, però lui viene creduto da tutti quanti i giornali italiani a differenza della Sibilla Cumana dice avremo un governo stabile. Allora porca puttana, perché ci prendete in giro? È del tutto evidente che a meno che Forza Italia non faccia un balzo da leoni nelle ultime settimane, cosa che certamente Gentiloni non si augura ma a meno che Forza Italia non faccia questo balzo il governo stabile non ci sarà perché non ci sarà una maggioranza in Parlamento lo ricorda oggi Polito il fatto che come tutti i giornali ieri hanno visto i sondaggi non ci sarà una maggioranza in Parlamento Gentiloni va in Europa e dice che ci sarà un governo stabile, io devo dire la verità, è la solita idea del democristiano che può dire tutto ma non può dire con quel grigiume, con quella serietà, la parola serietà è quella fondamentale e tutti quanti ci credono e tutti quanti a pecoroni, non ci sarà un governo stabile, mettetevelo in testa e altra cosa che oggi dice giustamente secondo me Verderami su Corriere della Sera non ci saranno neanche presto elezioni cioè avremo un governo instabile per la prossima legislatura piena prima Repubblica questo sia un bene o un male non lo so, su questo possiamo discutere ma la certezza che al momento abbiamo è che a meno che non vinca Forza Italia e quindi centrodestra il governo stabile ce lo scortiamo perché sarà un governo di coalizione l'altra cosa incredibile che fa Gentiloni è che attacca populisti, Lameloni, Saldini, il Movimento 5 Stelle quindi sostanzialmente l'accordone che vuole lui è PD e Forza Italia cosa che oggi Sallusti non esclude su un fondo del suo giornale e del nostro giornale però il punto fondamentale è che se la prende con Italo la società italiana fatta da Banca Intesa, Generali, Montezemolo, Seragnoli, Bombassei, Della Valle insomma fatta da imprenditori privati e da due grandi istituzioni finanziarie che hanno venduto dopo dieci anni Italo per la bellezza di due miliardi e mezzo hanno venduto una concessione perché i binari e i treni restano in Italia e l'operatività resta in Italia a un grande fondo americano e Gentiloni dice sono dispiaciuto, si sono comportati come una start-up, come dei ragazzini sostanzialmente un modo elegante per dire ragazzini da parte di un democristiano avrebbero potuto esercitare un'ambizione maggiore e critica anche molto le banche che non sono rimaste da dentro caro Presidente Gentiloni la tua anima comunista, inteso come sinistra, si capisce bene questa anima sinistra per cui un imprenditore non può vendere un'azienda tra l'altro radicata in Italia e che rimarrà in Italia ad un investitore estero denota A. che sei un populista e anche se tu li attacchi B. che ti permette di entrare in questioni private che non ti riguardano chiaro? Perché Gentiloni adesso è diventato il mito totale della politica italiana della serietà italiana ma questa roba che ha detto su MTV denota come un tempo si diceva l'animo l'animo populista di sinistra molto trampiano nonostante poi fa finta che Trump e i populisti non gli piacciono è la piena teoria trampiana se oggi voi aveste voglia di leggervi lo metterò poi sul mio sito e anche qua su Facebook il pezzo che scrivo sugli OGM capirete bene come in realtà sinistra e destra che fanno finta di essere antipopulisti e antipregiudizi scientifici in realtà spesso lo sono assai secondo tema della giornata ovviamente va un po' scemando però a me diverte molto perché quando tu vedi una moralista che ci faceva due palle così con questa faccetta che ci dava sempre le lezioncine a noi che siamo delle merde cioè Giulia Sarti perché lei era mentre vedete Di Battista Di Maio Fico cioè i vertici di quel movimento possono piacere o non piacere potete condividerli o non condividerli ma vedete il loro una diciamo un minor astio rispetto a una certa base che il Movimento 5 Stelle invece ha dentro di sé è la Sarti quella roba là quella che ci ha fatto anni di pippe sulla legalità sulla mafia sulla connivenza con le persone che non si dovrebbero frequentare lei l'ha frequentata una per 4 anni che non gli avrebbe a cui aveva affidato la sua contabilità che non gli avrebbe neanche rimborsato messi i rimborsi fatto i bonifici per i rimborsi il problema è che questo signore fidanzato della Sarti che la Sarti dice di non stare più insieme ma vivono ancora nella stessa casa una cosa straordinaria a meno che non abbiano una villa di 500 metri quadri io se mi lascio con una fidanzata ovviamente non è il mio caso ma forse non ci vivo più insieme ma questo insomma sono affari loro privati facessero quello che gli pare ma insomma l'altra cosa è che questo fidanzato registrava le telefonate e tutte le conversazioni con la Sarti e la Sarti cosa fa? lo denuncia e lui dice sai che c'è siccome ho registrato tutto faccio vedere cosa mi dicevi tu di fare dei bonifici io la trovo una cosa straordinaria la donna dell'onestà come dite ancora un po' voi impelagata in una situazione che mi auguro che il Movimento 5 Stelle se ne sbarazzi come se è sbarazzato le altre 10 persone che oggi nota mi sembra il Corriere della Sera come saranno Naccarato che è il traffichino diciamo di tutti i responsabili da 20 anni a questa parte però un uomo di un'intelligenza straordinaria che è candidato col centro-destra dice guardate che bastano 295 deputati non di più per arrivare a 315 perché poi in Parlamento un po' di responsabili li troviamo abbiamo già 10 grillini che mi scrive qualcun altro non rinunceranno mai al loro seggio o anche se volessero rinunciare al loro seggio non glielo permetterà il Parlamento e perché non glielo permette il Parlamento perché destra e sinistra non vorranno che al posto di quei finti grillini arrivino veri grillini quindi avremo una legislatura che a differenza delle balle che ci dice Gentiloni sarà stabile col corno sarà una legislatura una legislatura in cui andremo a cercare i voti in ogni dove ieri ci sono stati degli scontri a Bologna vi voglio leggere il titolo delinquenziale dal punto di vista dell'informazione cioè si tratta di un furto di notizia questo è il titolo di Repubblica i fascisti in piazza scuotono Bologna e poi scontri e polemiche per la carica della polizia contro i giovani che protestano falso è una stronzata questo è il regime di Repubblica non ci sono i fascisti in piazza che scuotono Bologna ci sono i centri sociali che lanciano bombe carta contro i poliziotti ne feriscono alcuni tra cui uno uno al viso perché non volevano che in quella piazza dopo 12 ore ci fosse una manifestazione di forza nuova allora forza nuova possono anche essere fascisti ma non sono i fascisti che scuotono Bologna cara Repubblica sono i comunisti dei centri sociali che fanno col pugno così e che si rifanno a ideologie orrende anche loro che menano i poliziotti perché i fascisti stanno là in piazza e parlano e se li considerate fascisti prendetevela col sindaco prendetevela col ministro degli interni prendetevela contro la politica che non ha impedito la costituzione del partito fascista come non è previsto dalla nostra costituzione quindi non date del fascista a qualcuno che anche proclamandosi tale o vicino a tale a questi non è stato escluso dal dibattito politico perché la legge lo prevederebbe e comunque sia fascisti o non fascisti il problema non era di fiore e di forza nuova chiaro il problema è di questi delinquenti dei centri sociali che menano i poliziotti vanno a far casino in piazza si inventano una battaglia dietro l'altra soltanto per menare una volta è Casa Pound l'altra volta è Forza Nuova l'altra volta è la Tav l'altra volta è la TAP perché questi delinquenti stanno menando i poliziotti e stanno invadendo anche i cantieri della TAP un tubo fatto a Lecce chiaro? quindi non sono i fascisti in piazza questo è il giornale l'onda nera che si ha non è l'onda nera è l'onda di questi delinquenti dei centri sociali che è un'onda di melma che ci portiamo avanti da 30 anni che possono andare in piazza e fare come vogliono chiaro? quarta cosa ultima cosa mi diverte da morire oggi ovviamente il sole 24 ore ognuno è infelice a modo suo cosa pensate? che sul giornale ci sarà un grande titolo di critica a Berlusconi il giornale di cui sono vice direttore su Repubblica un grande titolo di critica ai centri sociali sul Corriere della Sera un grande titolo di critica che ne so a Renzi nei tempi d'oro a Monti nei tempi d'oro no certo che no ma il sole 24 ore oggi ci illumina se no non me ne sarei accorto perché ieri ci sono state le assise cioè una grande conferenza una grande convegno della inutile inutilissima Confindustria quelli che contano in Confindustria se ne sono andati via quelli che ancora non se ne sono andati via lo fanno per pietà ma il 90% delle persone serie capiscono che non vogliono perdere il tempo a Roma ci sono delle associazioni territoriali importanti che servono e aiutano le imprese ci sono delle associazioni verticali che servono e aiutano le aziende di quelle imprese ma la Confindustria questo grande baraccone che si è riunito ieri a Verona non conta più nulla e dice soltanto scemate quella di ieri è straordinaria basta sentire il titolo del sole 24 ore che fa il suo mestiere ma è un mestiere improbo quando c'hai là sotto una organizzazione così inutile la svolta di Verona e tu pensi che cosa vai sarà questa svolta di Verona chiama la politica ad un confronto serio la svolta di Verona chiama la politica ad un confronto serio per chi di voi non si fosse suicidato tipo l'aereo più pazzo del mondo cioè quando c'è il racconto delle minchiate fatte dal povero amante ma questo è questo titolo la svolta di Verona chiama la politica ad un confronto serio per cui immagino chilometri che file all'edicola per sentire qual è questa svolta di Verona e per sentire cosa vuol dire chiama la politica ad un confronto serio il titolista si potrebbe anche accomodare alla redazione di Topolino poi dopo scopriamo che la Confindustria che chiama la politica ad un confronto serio cosa propone in 5 anni 250 miliardi di investimenti e 1,8 milioni di occupati riduzione del rapporto debito-PIL del 21% in 5 anni allora o devono cambiare pusher o queste robe qui le dicono per prenderci in giro cioè la Confindustria fa l'assise a Verona con i soldi delle imprese e spiega ai politici il libro dei sogni che tanto loro non vengono eletti da nessuno se non nelle loro piccole camerette si mettono d'accordo i 5-6 che comandano in Confindustria per fare il presidente che dice queste minchiate che poi vengono riprese dal loro giornale che stava fallendo per le minchiate che avevano fatto all'interno del giornale e ci propagandano questo progetto politico in 5 anni 250 miliardi di investimenti e 1,8 milioni di occupati riduzione del rapporto debito-PIL del 21% bella idea ci piace molto siamo convinti che questo è un grande programma ringraziamo perché nessuno aveva pensato a un programma così importante per fare 1,8 milioni di occupati una roba da pazzi oggi Ricolfi prende in giro sul messaggero i programmi dei partiti sulla riduzione debito-PIL dicendo ridicola l'operazione di Berlusconi che lavora ridurre al 100% perché sarebbe il 6,4% di riduzione del PIL all'anno 3% invece richiede Movimento 5 Stelle 5% Movimento 5 Stelle 3% il PD ma non aveva ancora visto Ricolfi le minchiate che dicevano in Confindustria se no ovviamente avrebbe messo Confindustria cosa che è un partito tra gli altri fatto da 10-15 imprenditori che non hanno aziende personali hanno piccole aziendine da 5-6 milioni di fatturato 10 milioni di fatturato la più importante Confindustria locale quella dell'Assolombarda guidata da un signore che ha un'azienda di pochi milioni così come nulla di male persone legittime perfette ma che vanno a fare attraverso piccoli diciamo camarille politiche le Assise dove ci sono 7 mila persone di cui moltissime saranno persone per benissimo ma quello che mi fa impazzire sono gli stessi che ci spiegarono comunque che dopo il referendum di Renzi il PIL di Tarlano sarebbe crollato del 5% in uno scenario incredibile non hanno chiesto scuso per quelle stupidagge che mi ha detto e ora propongono il programma di Confindustria beh io la trovo veramente ridicola bene ridicola e anche un po' triste per quelli che ancora pagano l'associazione della Confindustria vi do un grande abbraccio e vi do appuntamento come sempre a domani e più tardi voglio vedere ancora voglio parlare ancora di OGM perché questa è una di quelle storie incredibili ciao